L'incontro di oggi AI for Education vuole aprire un dialogo tra scuola e mondo della ricerca e mondo del lavoro. Vogliamo rispondere a un'urgenza, una domanda che ci viene dal mondo della scuola e ci interrogheremo su come la Fondazione, e quindi come un ente, come la Fondazione possa rispondere a questa domanda, in collaborazione con gli enti del territorio. La mattina è dedicata a dei panel scientifici in cui parlano i ricercatori e il pomeriggio sarà dedicata a dei workshop dove si lavorerà su diversi ambiti per cominciare a ragionare su come portare l'intelligenza artificiale nella didattica.